A partire dal 25 ottobre partiranno ufficialmente i lavori per il repristino del muro di recinzione della scuola Enea di Martim Pescatore, distrutto dal nubifragio del 10 settembre scorso. Verranno inoltre realizzati interventi di moderazione del traffico lungo le vie Torralba e Vinci in corrispondenza dell'Istituto Scolastico. Interveniamo per rimettere in sicurezza l'Istituto Scolastico con la realizzazione di un nuovo muro di recinzione, ha dichiarato il sindaco Fabio Fucci, e procediamo con l'istituzione delle zone 30 nei pressi delle scuole del territorio. Con interventi di moderazione del traffico che riducono la velocità per i veicoli a 30 km orari, incrementiamo la sicurezza dei bambini che entrano e escono dalla scuola e dei pedoni in generale. Si tratta della seconda zona 30 in città dopo quella realizzata in via Castagnetta nei pressi della scuola, ha spiegato l'assessore Giuseppe Raspa, e prevede la realizzazione di un marciapiede protetto lungo le vie Torralba e Vinci, per consentire l'accesso e l'uscita di sicurezza dai plessi scolastici esistenti, e la realizzazione di due platee rialzate per moderare le velocità di attraversamento dei veicoli motorizzati. Il progetto zona 30 include diversi interventi, la realizzazione di un marciapiede pedonale lungo il lato sud di via Torralba e lungo il lato est di via Vinci, l'introduzione del senso unico in direzione sud lungo via Vinci, la realizzazione di due dispositivi di moderazione del traffico, costituiti da una piastra rialzata a livello marciapiede, rispettivamente in via Torralba in corrispondenza dell'ingresso alla scuola primaria, e all'incrocio tra le vie Torralba e Vinci. Infine, la risistemazione delle aree di sosta. I lavori si concluderanno nel giro di un mese.